Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dal maltempo, segnaliamo pioggia su gran parte della Toscana, ricordiamo di guidare con prudenza e raccomandiamo di moderare la velocità. Voltiamo pagina per il traffico ferroviario, per gli interventi del primo lotto del raddoppio ferroviario tra Pistoia e Monte Catini Terme sulla linea Firenze-Pistoia-Viareggio. La circolazione ferroviaria è sospesa tra Pistoia e Monte Catini Terme dalle 15 di oggi, sabato 2 alle 5 di mattina di lunedì 4 febbraio. Tra le due località è attivo un servizio sostitutivo con autobus via autostrada 11 che non effettua fermate intermedie. Prima di salutarci per il traffico aereo, il volo Pisa-Tenerife delle 14.05 al momento è segnalato in partenza e in ritardo alle 17.10. Il volo Pisa-Manchester delle 17.25 con un'ora di ritardo alle 17.25. Muoversi in Toscana-Infio è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!